Nel cuore di Genova in Via Donghi andiamo alla scoperta degli arcieri della Superba, una realtà importante e in forte crescita per quello che riguarda il tiro con l'arco genovese. Iniziamo a fotografarvi, quanti siete e quali sono le attività che svolgete quando si inizia e come si va avanti con un arco in mano. È una società grande, sta crescendo, cresce sempre di più. Basti pensare che circa cinque anni fa eravamo una ventina, adesso abbiamo sfondato il tetto dei 150 soci, quindi è una società in crescita. La nostra palestra è sufficientemente attrezzata per ogni esigenza e abbiamo iniziato in pochi, stiamo continuando in tanti, speriamo sempre di aumentare di più. E come si procede con un arco? Beh, tutto nasce dalla voglia, tutto nasce dalla curiosità fanciullesca di mettere la freccia dentro il bersaglio. Nei nostri cuori tutti abbiamo sognato una volta di fare centro. E con un pizzico di coordinazione motoria, con gli allenamenti dovuti, con le arrabbiature e le felicità, piano piano si prosegue verso cosa? Verso obiettivi migliori, verso attrezzature migliori e verso nuovi obiettivi. Perché non ci si ferma mai in questo sport, è sempre un divenire, dai ragazzi più piccoli fino a un'età non meglio precisata e non precisabile. Tutto in una palestra, in uno stabile, in cui avete investito molto, soprattutto a livello di braccia e sudore e l'avete fatto diventare un piccolo gioiello. Sì, è uno dei nostri orgogli. È l'orgoglio, diciamo, più tecnico, tangibile. È una palestra con parecchie linee di tiro, fino a 18 metri, indoor. Sì, è attrezzata, abbiamo gli spogliatoi tutto a norma e siamo molto contenti. I nostri gioielli, sì, quello è il gioiello forse più tangibile. Quello più grande per me è la condivisione di uno sport completo. È uno sport completo non solo dal punto di vista di catene muscolari dorsali, di coordinazione motoria, ma proprio completo perché ha due componenti, sia quella individualistica, perché attirare sono io, e di gruppo, perché comunque faccio parte di una squadra. E questo è forse il gioiello più grande. Non è proprio l'aggiungimento degli obiettivi quanto vedere la felicità nel volto di chi ti sta vicino e anche in te stesso quando fai un buon centro. E visto che siete in crescita, proviamo a farvi crescere ancora di più. Dove siete e come si fa a contattarvi? Allora, la palestra è situata in via Donghi 68 Rosso, nel quartiere di San Fruttuoso, praticamente sotto il San Martino. E per contattarci è sufficiente, su qualunque motore di ricerca, Google, Virgilio, quello che è, scrivere Arcieri della Superba oppure cercarci direttamente su Facebook nella pagina dell'Arcieri della Superba dove è possibile trovare un numero di telefono da contattare per ulteriori informazioni. Organizziamo diversi corsi e basta mettersi d'accordo. L'attività in palestra si differenzia per diversi tipi di corsi e riuscite anche a far tirare con l'arco ragazzi disabili. Insomma, siete una società che riesce a raccogliere tutti coloro che si vogliono avvicinare a questa disciplina. Assolutamente sì. Noi riusciamo, abbiamo diversi corsi. Il primo è ovviamente un corso base, suddiviso anche per età perché c'è una specializzazione dei nostri tecnici per insegnare ai ragazzi e poi abbiamo un corso disabili che sta dando molte soddisfazioni e quindi è un corso a cui teniamo molto insieme a tutti gli altri, cioè quello d'arco nudo, arco olimpico, compound.